Dopo aver effettuato le opportune ricerche negli archivi dell'ente si comunica che non risulta agli atti del comune il progetto esecutivo denominato centrale di compressione, quattro linee di collegamento, località Cassapente di Sulmona, questo quanto risposto al settore pianificazione e gestione del territorio del comune di Sulmona a coordinamento per il clima fuori dal fossile, che agli stessi uffici aveva presentato richiesta di accesso agli atti per avere copia del progetto esecutivo relativo alla centrale SNAM. Una risposta sorprendente, come la definiscono gli ambientalisti, di fronte a un cantiere aperto nel mese di marzo del 2023 e dove dallo scorso settembre sono iniziati i lavori di costruzione della centrale. 18 mesi in cui l'amministrazione comunale non si è neppure preoccupata di chiedere alla SNAM il progetto esecutivo, eppure ricordano al coordinamento, secondo il codice degli appalti, il progetto di fattibilità tecnica e il progetto esecutivo hanno lo scopo di assicurare la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e tutela dei beni culturali e pesaggistici, oltre al rispetto della normativa in materia di salute, della sicurezza e di sicurezza delle istituzioni, aspetti sui quali, continuo e comunicato, il sindaco Di Piero e la sua giunta non mostrano il minimo interesse, non preoccupandosi di rivalutare il progetto di un'opera altamente impattante sul territorio.